Ciao webbizucchini, questo è il primo di una serie di video decluttering che devo assolutamente fare perché sono piena di cose Praticamente non ci sto più in camera mia. Come potete notare, questo video sarà incentrato sui libri Nessun libro avrà maltrattato distrutto perché li porterò a una libreria di seconda mano Bene, io direi che possiamo iniziare subito senza alcun indugio Pesco a caso dai libri perché come al solito sono tanti occhiali e non vedo niente Allora, questo qua è il mercante di Venezia che mi ha regalato una mia amica e che devo ancora leggere Beh, questo ovviamente lo tengo perché Shakespeare non si può buttare via Prossimi libri sono questi che li pesco tutti e tre insieme perché sono tutti libri di Shakespeare dell'edizione Burr Che avevo comprato per un esame Allora abbiamo Parichel e Principe in Tiro, La Tempesta e Il racconto d'inverno Il racconto d'inverno è il mio preferito tra i tre Peschiamo altri libri a caso Allora abbiamo The Importance of Vin Ernest di Oscar Wilde Che è una commedia che io adoro, bellissima Marco Valdo di Italo Calvino Che sono una serie di racconti che hanno un protagonista, Marco Valdo ovviamente Che è un po' sfortunatello Questo è un po' tragicomico Però molto bello anche questo come libro Poi abbiamo La Terra Desolata, The Wasteland di T.S. Eliot In assoluto uno dei miei poemi preferiti Infatti ho fatto anche la tesi della magistrale No, beh, non era solo sulla Wasteland Però su tutta l'opera poetica e di come viene influenzata dalla poesia di Dante E poi l'ultimo libro I fiori del male di Baudelaire C'è anche il testo a fronte in francese Utile per me che lo sta un po' ripassando Perché me lo sto dimenticando Se non lo sapete io ho studiato francese all'università Anche se non so dire niente Ma vabbè, al momento non ho buttato via niente Quindi faccio schifo a fare i decluttering, lo so Comunque abbiamo Come sopravvivere alla prima cotta Ovvero l'amore dalla A alla Z Che è questo libro delle ragazzine Anche se è un libro stupido non lo riesco a buttare via Perché negli anni 90 i libri delle ragazzine Proprio erano libri che dovevi comprare Quanto è carina la copertina Poi abbiamo tre libri di Sophie Kinsella Che sono I Love Shopping I Love Shopping a New York La Regina della Casa Che penso sia uno dei miei preferiti di Sophie Kinsella Ovviamente sono libri leggeri un po' stupidini Però non so, ci sono affezionata Anche se in realtà ho riletto qualche anno fa la saga di I Love Shopping E ho trovato Becky proprio stupida Però come ho contato i caccarini Non li posso buttare via Andiamo avanti con questo Che è un libro di orsetti, no? Questo qua è Cuore di Edmondo De Amicis Che è di mia mamma E l'è stato regalato nel 1965 Vabbè questo è suo Quindi non lo posso buttare via Poi, poi, poi Abbiamo un altro libro delle ragazzine Che si intitola Em se n'è andata Meg è fidanzata E io cerco la mia strada Questo mi sa è uno dei primi libri che ho comprato Oddio, ma stanno cascando Cosa è questa cosa? C'è un bigliettino che parla dello stomaco Dell'apparato digerente Io non so cosa sia questa cosa qua Poi abbiamo Macbeth di Shakespeare Che è una delle mie tragedie preferite Ho fatto anche un esame su questo libro Quindi non dico che lo so a memoria Però quasi Qua c'è anche un altro biglietto Aiuto, cosa c'è scritto? Il numero di una sartoria Altro libro che è uno dei miei preferiti Che è Great Expect... Non lo so, ma Scusate Great Expectation di Charles Dickens Che ha uno dei miei protagonisti preferiti Che è Philip Pirip Io lo amo È un po' me al maschile Vi consiglio anche di guardare il film Che è molto carino Quello che hanno fatto Boh qualche anno fa Ultimo libro che ho qua È Memorie di una geisha Che ho letto alle superiori Però non me lo ricordo Quindi potrei rileggerlo Perché mi ricordo che era molto bello Infatti a una festa della scuola in maschera Mi ero vestita da una geisha Perché l'avevo appena letto E mi ero innamorata Della cultura giapponese Vabbè Abbiamo capito che non butterò via niente Allora Come obiettivo Devo almeno dare via 5 libri Ce la farò Lo scoprirete Solo alla fine di questo video I prossimi libri sono Peter Pan Di James M. Barry Però questa è la versione teatrale Che mi ha regalato una mia amica Non so perché Forse perché lei non la leggeva Non lo so se lo leggerò Però non me la sento di darlo via Poi abbiamo English Literature A Short History Questo qua è il mio libro È il libro che di solito leggo in spiaggia Perché ti racconta un po' la storia della letteratura In pillole ecco Quindi non è pesantino E è scritto in inglese E anche questo era per un esame Poi abbiamo Persuasion di Jane Austen Che devo ancora leggere Questo libro me l'ha regalato una mia amica Al mio compleanno Ed è in inglese Solo che io non ho ancora trovato Un libro di Jane Austen Che mi prenda Però vabbè le darò Le darò un'altra possibilità Il libro segreto di Dante A me è piaciuto questo romanzo È un po' Dan Brown Incontro alla filologia dantesca Però lo rileggerei Quindi neanche questo lo do via Allora vediamo cosa abbiamo qua Io non sto vedendo niente Ho pescato La locandiera di Goldoni Questo era il libro che dovevo leggere per le vacanze Apologia di Socrate e Critone Di Platone Vabbè non li posso subitare via questi libri Perché sono libri fondamentali Ecco poi ho Northanger Abbey Di Jane Austen Io questo libro L'ho riletto due volte Ma arrivo sempre a metà E non riesco ad andare avanti Questo qua è in inglese Però non so Lo darei via Però non me la sento Perché è Jane Austen Ok non andiamo via niente Poi ho Jane Eyre Di Charlotte Bronte Anche questo lo dovevo portare Per un esame All'università È molto bello come libro Però io odio Rochester Che è L'interesse amoroso di Jane Perché è veramente Una persona spregevole E se vi è piaciuto Jane Eyre Vi consiglio di leggere White Sargasso Sim Che Non so come dirlo Senza spoilerarlo Però Senza spoilerarvelo Però è connesso A un personaggio Che c'è in Jane Eyre E vi farò vedere Quanto Rochester È una persona schifosa Rochester ti odiamo Ultimo libro È un libro in francese Che avevo preso Tra i libri d'uno Nella biblioteca E si intitola Le théâtre Et il nécessaire Non so se tenerlo o no Però è uno dei pochi libri Che ho scritto in francese Magari mi potrebbe aiutare A rispolverarlo un po' Perché sono così un disastro Non riesco a buttare via niente Allora vediamo Cosa abbiamo qua I promessi sposi Di Manzoni Che ho letto Un po' alle medie E anche ho riletto Durante la quarantena Però sono arrivata a metà Io arrivo sempre a metà Con i libri È bello Perché è un romanzo fondamentale Per la letteratura italiana Però è un po' pesantino Una cosa che amo È la descrizione di Don Abbondio Che è come un vaso di terracotta Tra i vasi di ferro Oddio Io la amo quella citazione Mi piace un sacco Vabbè I promessi sposi Resterai con me Ho anche la versione gigante E super fica Di questo libro Che vi avevo fatto vedere In un vlog Non so dove sia adesso Questo qua invece È un libro Che si chiama Il club delle mele avvelenate Però non lo posso dar via Perché lillino è carino E potrebbe servirmi Per fare le foto Che persona vanesia Che sono Poi Questo cos'è Il principe della nebbia Di Zaffon Non ho mai letto nessun libro Di Zaffon Me lo consigliate Vabbè È un libretto Posso leggerlo Poi se in caso non mi piace Addio Qua ho due libri Dell'università Che sono Imparare le lingue straniere E la comunicazione interculturale Di Balboni Che è un mio professore E neanche questi Li posso dar via Vabbè Avete capito Com'è Il leitmotiv Di questo video Questo qua invece È il testo poetico Che è un altro Testo universitario Che terrò Oh ecco Il primo libro Che darò via Sono le confessioni Di Sant'Agostino Preso nel mio periodo In cui ero super cristiana Religiosa Andavo a messa Sempre Ora Non sono più Sono più agnostica E questo libro È veramente Una palla Non lo so Magari è bellissimo Io non lo so apprezzare E quindi Lo darò alla libreria Dei libri usati Magari c'era qualcuno Che lo apprezza più di me C'è anche il testo In latino A pronte Mi piacerebbe Studiare il latino Però Rispolverarlo Ma perché mi vengono Tutte queste cose qua Per esempio L'altro giorno Ho tirato fuori I miei libri di matematica Perché mi sono fissata Che devo Ristudiare matematica Ecco Prossimo libro Che darò via Forse una mia amica Mi ammazzerà Perché me l'aveva dato lei Forse perché Lei aveva una versione migliore E questo Non le interessava È It Di Stephen King Allora Mi dispiace Perché io penso Che sia un autore Fantastico Perché tutti ne parlano bene Però Il tema Di questo libro Proprio Non mi attira Anzi Guarda che è scritto In microscopico Quindi ci perderai la vista A leggerlo È proprio un mattonazzo Ma quante pagine ci sono 1200 Mi dispiace It Ti daremo via E siamo già a quota Due libri da dare via Pa 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 Peschiamo a caso Questi mi sa che sono tutti libri Che tengo Shakespeare Molto rumore Per nulla Stendali Stendali Rosso il nero Io non so se sia questa edizione La traduzione fa schifo E io mi dico È una traduzione dal francese La francese e l'italiano Non è che ci sia Tutta sta grande differenza Linguistica Smettila di cascare Anche Rosso il nero Mi sa che ci lascerà Allora il ritratto di Dorian Gray Di Wild Ovviamente resta Poi ho Freud Ossessioni Fobie Paranoie Mrs. Dalloway Di Virginia Woolf Ovviamente resta C'è anche un bellissimo film Aia Mi è sentata il libro Nell'orecchio C'è un bellissimo film Con Oddio Chi è questa attrice Non mi viene in mente Io vi consiglio di guardare Che si chiama The Hours Allora Questi sono tutti i libri Della Newton Compton Ovidio L'arte di amare Come curare l'amore L'arte del trucco Non lo so Questo è uno dei libri Che sta in forse Leggende e fiabe Di Hermanesse Che ho letto Carino Però non so se lo rileggerei Mettiamolo tra i libri forse Petrarca Il canzoniere Pagato 2,50 euro Questo lo tengo Perché a me piace un sacco Petrarca E mi piace la poesia In generale Poi abbiamo Troilo and Cressida Di Shakespeare Su cui ho fatto La mia tesi triennale Vabbè rimani Perché sei Shakespeare La bisbetica domata Sapevo di averlo Questo libro Come vi piace Sempre di Shakespeare Ovviamente lo tengo C'è anche il film Che ho visto al cinema Di Kenneth Branagh Carino Guardate il film Se non volete leggere L'opera Allora Il libro Sul buddismo Che ho trovato In biblioteca Io uso Le vecchie ricariche Come segnalibro Non so se mi interessa Voglio ancora diventare buddista No Ciao Addio Poi abbiamo Poesie di Paolo Neruda C'è anche il testo a fronte In spagnolo Dallo fa Vabbè teniamolo La favola di amore psiche Amule Non ce la fa La favola di amore psiche Di Apuleio È molto carina Quindi la tengo C'è anche il testo a fronte In latino Le notti bianche Lo dovevo Sempre studiare per un esame Ovviamente Shakespeare Rimani qua con me Goldoni Le bruffe Chiozzotte Il ventaglio Questo sono tentata Di darlo via Però Non so No lo tengo Il lianto di Stefano Benni E sta carino come libro È un po' onirico Strano Questo non è mio Baci da Malibu Penso sia di mia mamma Vabbè questo glielo ridò a lei Poi vedrà Cosa fare Se lo vuole rileggere O dare via Un altro libro Delle ragazzine Maleducata io Il galateo della perfetta teenager No ma quanto belli erano questi libri Prendiamo questo Che è il circolo piquit Di Charles Dickens Allora L'inizio di questo libro È bellissimo Dopo però È lunghissimo E io mi sa che sono arrivata Anche a questo a metà E non l'ho finito di leggere Però non posso dar via Charles Dickens Perché io amo Charles Dickens Dovrei leggere altri libri suoi In caso fatemi sapere voi Cosa mi consigliate Poi abbiamo Harry Potter Che è l'ordine della Fenice Questo ho comprato Proprio quando era uscito Forse vale qualcosa Comunque non posso dar via Harry Potter Anche se J.K. Rowling Mi sta sulle balls Qui abbiamo La boutique del mistero Un libro molto perturbante Sono dei racconti Molto strani Che vi lasciano un po' La mare in bocca Io ve lo consiglio Però non leggetelo Prima di andare a dormire Oddio Questo libro lo amo Sono una raccolta Di strisce dei peanuts Io amo Charlie Brown Non so parlare Io amo Charlie Brown Snoopy Oddio Questo libro è ancora in lire Quindi è vecchissimo Abbiamo ancora Shakespeare Ero il sogno di una notte di mezz'estate Che volevo leggere quest'estate E poi non ho più letto Come il sate Prima o poi li leggerò Ve lo prometto Ci sono pelucchi che volano ovunque Prossimo Oddio che bello Questo è il giardino segreto Che ho letto questa primavera Ma piace troppo È troppo carino Soprattutto se siete giovani Questo libro è perfetto per voi Oddio sta cascando tutto Ho ancora Freud L'interpretazione dei sogni Che ho comprato insieme a Elianto Perché a scuola avevano fatto questa conferenza Se i sogni io mi ero intrippata E ovviamente io mi intrippo sempre di tutto Racconto di Natale Di Charles Dickens Troppa carina questa edizione Col film Quello con Jim Carrey Ma il film era della Disney Non mi ricordo Ovviamente questo lo tengo Forse lo leggerò questo Natale Perché le altre storie non le ho lette Scusate ma sono pieni di libri Li devo un attimo sganciare Cime tempestose Mi era piaciuto questo romanzo L'avevo letto per un esame La storia tra di loro è terribile Perché sono tutti e due dei narcisisti pazzi Però vabbè Dai Troppo carina Charlotte Bronte Poi abbiamo Oddio aspetta Che non me la posso far vedere Che questa è mezza nuda Poi YouTube Mi banna Ines dell'anima mia È un libro carino Sulla conquista spagnola Del Perù Non so dove ero arrivata Perché la macchinetta è impazzita E si è spenta Tipo Comunque questo libro qui Non lo voglio dar via Perché l'avevo letto Sì l'avevo letto L'avevo vinto Non so cos'era Una festa di Natale A scuola la nostra prof Aveva fatto un cruciverba in latino E io avevo vinto il cruciverba in latino Avevo vinto il libro Ho il libro che do via di sicuro È l'eleganza del riccio In realtà non è male come libro Solo che l'ultimo capitolo È proprio terribile Mi ha rovinato tutto il libro Quindi non ci tengo a rileggerlo Mi ha traumatizzato Qua abbiamo due guide Una di Milano No una di Roma E una di Milano Che tengo Perché se magari torno a Roma A Milano Mi servono E queste qua Le avevo presi Tra i libri dono della biblioteca Il cestino dei libri dono della biblioteca La mia rovina Perché io vedo i libri Li porto tutti a casa E poi non ci sto più in camera Alice nel Paese delle Meraviglie E Alice attraverso lo specchio Questo libro mi intriga Troppo carina la copertina Solo che è in italiano E mi dispiacerebbe leggerlo in italiano Perché ci sono un sacco di giochi di parole Nella versione inglese Quindi vabbè dai Lo leggo in italiano E poi in caso lo rileggerò in inglese Altro libro delle ragazzine Qua mi sta volando la polvere Da ogni dove È quest'anno cambio vita 189 consigli per 4 stagioni Ho anche la copertina tutta cicciotta Simil, pitonata, azzurra Devo tenerlo Non butterò via niente Anzi no Questo invece lo butto Cioè lo butto via Lo do alla libreria Ed è un libro La terra sotto i suoi piedi Di Salman Rushdie Che mi aveva dato una mia amica Perché a lei non piaceva Io mi ricordo che ho letto I primi capitoli Boh Non mi prendeva Quindi addio Ma cosa c'è? Un moscherino che vola Andiamo avanti Questo libro Eh sì Questo libro Questo video sarà infinito Allora Gente di Dublino Di Joyce Sono dei racconti che mi piacciono un sacco Tipo Evelyn I morti E altri Boh Però vabbè Un libro Che bisogna tenere Questo è un libro Sulla controriforma Che dovevo leggere Per un esame All'università di storia Era un po' una palla Però gli darò un'altra possibilità Se mi farà schifo Lo darò via Questo invece Il club delle babysitter Non lo so Non mi ispira a questo libro Non mi ricordo neanche Se mi era piaciuto Questo mi sa Che lo abbandonerò Ciao Questo invece È il mistero degli studi Kellerman Di Ken Follett Questo è carino Non lo voglio dar via Perché Ken Follett Ma Ken Follett Spiace Quindi vabbè Ti terrò con me Ancora un po' Ancora un pochino L'anello di Ray Salomone Di Conrad Lawrence Questo libro L'ho comprato Perché in psicologia Avevamo studiato L'etnologia Se non No aspetta Non è l'etologia Vabbè La branca che studia Il comportamento Degli animali Tu rimani con me Prima o poi Ti leggerò Siamo quasi arrivati Alla fine Forse no Sì dai Perché questi sono libri Cicciozzi Allora abbiamo Il piacere di D'annunzio Che dovevo leggere Come libro Delle vacanze Questo lo tengo Perché lo vorrei Rileggere Il prossimo libro È Manuale per Apprendisti maghi Guida il magico mondo Di Harry Potter Oddio ma C'è un moscerino Che continua a volare A rompere Sì è un po' Un libro inutile Però magari vale Un po' di soldi Se vale soldi Lo rivendo Se no lo tengo Oddio La prima copia Di Harry Potter Cioè il mio primo libro Di Harry Potter Anche perché È capitolo 1 Che mi aveva regalato Mia zia natale E sono troppo Affezionata a questo libro In più forse anche Una prima edizione Forse vale soldi Anche questo Vabbè non lo posso dare via Anche se come vi ho detto Jack Rowling Non mi piace L'ulisse di James Joyce Vabbè la tengo ovviamente Perché l'ulisse di James Joyce Non la puoi dare via Prima o poi La leggerò La leggerò Anche questa Ma quanto dura Questo video Che palle Vi stimo voi Che siete rimasti Fino qua con me Comunque non è ancora finito Ho già dei capelli Proprio terribili Comunque Vediamo Questo che libro è Tutti i volti dell'arte Questo è un saggio Mondadori Questo saggio L'aveva consigliato Il mio prof Delle superiori Di arte E io ovviamente L'ho comprato Prossimo libro Oddio Questo qua è Brick Lane Un libro che dovevo leggere Per l'università Io non so perché Ma ho un ricordo Che era palloso Quindi mi sa Che lo darò via Oh Romeo Giulietta di Shakespeare Cosa vi devo dire Ovviamente lo tengo E Hamlet di Shakespeare Che ogni anno Cerco di leggere E non vado mai avanti Devo avere qualcuno Che me lo spiega Ma prima o poi Lo finirò di leggere Poi oddio C'è questo mini vangelo Che mi avevano dato Quando ero all'elementari Però ho dei brutti ricordi Ragazzi A questo mini vangelo Quindi mi sa che tu te ne andrai Altro libro che do via Perché è in questa versione Un po' puzzona Che ho preso sempre Tra i libri dono Della biblioteca È L'amore ai tempi del colera Che di sicuro sarà bellissimo Ma questa edizione è terribile E poi non capisco Perché non c'è la suddivisione In capitoli Se questo non è capitoli Io come faccio a capire Quando devo smettere di leggere Non l'ho neanche pagato Questo libro Posso darlo via Sai tenere un segreto Di Sophie Kinsella Ho scoperto che c'è anche Il film su Amazon Prime Ma io sono affezionata A Sophie Kinsella Anche se non ha lettura Un po' leggera E in più questo libro Ma è carino Mi piace A volte lo rileggo Va bene Lo tengo Simposio di Platone Si passa dal sacro al profano E dal profano al sacro In questo caso Ma non ha senso Quello che ho detto Il simposio di Platone Ti teniamo Anche se è una versione Un po' puzzona e vecchia C'è pure Oddio Ancora le ricariche Che uso come segnalibri Comunque c'è anche Il testo a fronte in greco Semmai imparerò al greco Piccolo principe Anzi Le Petits Prince Di Antoine de Saint-Exupéry Questo qua è troppo carino In più ci sono tutti i disegnini Questo libro Mi farà morire da ridere Se siete vecchi come me E sono No Ci chiama solo Capitan Mutanda Risate Super Compilation Numero 1 Non posso Lo devo tenere come ci meglio Magari vale qualcosa Basta Giulia Non vale niente Da che siamo quasi arrivati alla fine Vediamo cosa qua Oh la vita nuova di Dante Sì mi piace molto questo libro Se mai lo leggerete Capirete che anche Dante Erano spiegati in amore come voi O come noi O come me E basta Questo libro poi è tutto rovinato Perché mi si deve essere aperta La bottiglietta d'acqua Non so se nello zaino Nella borsa E la sbombata Stonfatto Volete che io dia via Dante Ovviamente no Oddio L'isola del tesoro di Stevenson È un altro dei miei libri preferiti C'è pure un saggio di Harry James Come introduzione E se vi piace questo libro Vi consiglio di guardare il film Il pianeta del tesoro Della Disney Oddio È bellissimo Le cronache di Narnia Questo libro me l'avevano regalato Le mie cugine A Natale E io mi ricordo che la piccola Era in fissa Con le cronache di Narnia Il film Con lo leone e la strega L'armadio L'avevo vista al cinema E mi era innamorata Solo che in realtà Dei libri Ho letto solamente Il nipote del mago E non ho letto il resto Però una cosa che vorrei fare Lo vorrei leggere Segnatevi tutte le volte Che vi ho detto Questo libro lo leggerò in futuro Poi è un libro per bambini E anche un po' più leggero Da leggere Manuale di spagnolo Quando mi ero Messa in testa Di imparare lo spagnolo Penso alle superiori O alle medie Non lo so Questo qua l'avevo comprato Da Lidl Ci sono pure i cd Quindi può sempre servire Non si sa mai nella vita Quale altra lingua vorrei imparare Poi abbiamo un libro D'università Che è Fare educazione linguistica Guarda che ce lo tengo Questo libro di Legoff L'uomo medievale Che parla un po' Dei vari personaggi Del medioevo Tipo l'artista Il Non so parlare Non mi sono più rimasti Neuroni Alla fine di questo video Comunque si parla Dell'intellettuale Del cittadino Della vita della città Del contadino Del guerriero cavaliere Magari può essere interessante Se mai mi riappassionerò La storia Ultimo libro Che mi sa che daremo via Anche perché Anche questo l'avevo preso Tra i libri dono della biblioteca Ed è La verità del ghiaccio La verità del ghiaccio Di Dan Brown Ah ma di solito piace Dan Brown Ho letto praticamente Quasi tutti i libri A parte il simbolo perduto E questo Però non so Non mi ispira E poi preferisco Leggerlo in inglese Dan Brown Ciao Addio Addio Anche il video di oggi È finito Io vi ringrazio sempre un sacco Se siete rimasti Fino a questo punto Comunque devo dire Che sono stata brava Perché abbiamo Cioè Ho eliminato Non so parlare Ho eliminato Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 libri Sono più del doppio Di quello che Mi ero prefissata Sono stata molto brava Comunque Se vi è piaciuto il video Come al solito Mettete mi piace Iscrivetevi a questo canale Se volete vedere Altri video decluttering La mia camera Che è un disastro Una nuova Non avete neanche chiederti Che disastro è la mia camera Detto tutto questo Io vi saluto E ci rivediamo Al prossimo video Anche il video di oggi Ma che schifo di capelli Siamo arrivati Alla fine Di questo video Non ce la faccio più No Sta crollando tutto No Dove vai? La mia incapacità La mia pagazione La mia pagazione Grazie a tutti.